in posizione tattica ha 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 dove andiamo ed eccoci qua prima partita della serata di riscaldamento vera cattone un team misto diciamo ma 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 vedo che siamo no no non siamo contestati si sono a pusha stanno qua che stanno di un botto e qua ragazzi e di qualità e ammazzano viene ammazzato alcun altro ma ecco l'ha detto sì ma so botte dai so botte so botte di cazzare spara un po qua spara un po qua col segnatore da sta parte qua da me facci su ma sa vera mi fa perdere un sacco di tempo che fa che sei in botte sei che vuoi fare ho vincito la partita eccoli 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 tutti e quattro lava dai attento c'è un altro qua si sta qua sotto dici ah eccolo si va ma io c'ho il botte che mi cura ma si vabbè ma è un botte si ma è un botte è un botte 119 è solo ragazzi sta scappato cerca la fuga non è un botte io ho fatto 119 eh ma guarda allora è un altro perché io l'ho già sbiancato al mio no no sta scappato fatto 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 se stava curato ecco l'amici me la sto vedendo con gli amici ho bisogno d'aiuto lo sta curato ha cercato di curarlo occhio comunque sono scarsi eh gliela potremmo fa si sono scarsi te dico mi ha ammazzato il botte mi ha ammazzato il botte ah no sei stato tu don ora sta qua sotto rega da me vabbè so botto so botto so botto via il mio botte adesso vi curerà come per magia siete pronti? eccolo qua è grande questo ci fa male a tutti siete tutti in posizione? io avevo fight qui adesso non vedo più niente vado avanti davanti stanno tutti in là fermi non sparate se stanno ancora a sparare fra di loro qui c'è un altro io c'ho gente in là attenzione sono tre squadre vero? c'è uno qua a piedi a sotto rimaneteli uniti ragazzi non vi separate rimanete uniti rimanete uniti vi prego sotto qua sotto rega non sta rialzando è bianchissimo no rega è bianchissimo mi prego un colpo rega ricordo no non ci posso credere si sta curando si sta curando da me da me da me io sotto ne abbo da uno lassù lontano però non so quanto resisto preso io c'ho un altro team è qua no è uno solo via donna arriva uno ferito verso di te vattene che è meglio io sì ne arriva un altro non arriva attenzione arriva un altro quello mo scappa eccola arriva vuole via le schede vuole via mi ha rimpiazzato il muro attenzione una terra chi 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 che c'è hai ammazzato hai ammazzato le scopate grande ce l'ho qua ce l'ho uno donna lo so ma non mi fa costruire questo mi ha povinato c'è davanti no non lo vedo come no no non lo vedo adesso si adesso si adesso si eh lo so lo so lo so cazzo così che non vediamo c'è la colonna dove sta era la mia dove sta io c'è il muro io c'è il muro io c'è il muro ah pregato sto bastardo buona mon safe donna sì sì per forza dai 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 si andrà a sparare a noi questo non mi pareva tanto da giardone prendi le sue armi dai arriva arriva c'ho due di vita sa con me sa con me sa con me sa con me eccolo 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 sa con me io ho levato un po' dei scudi oh oh no è un cazzo vado no 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 mi ha preso al volo pezzo di merda è questo Razor Legends quello la che non è è morto è morto è morto lo devi ammazzare è bianchissimo maga dammi le coordinate occhio all'ultimo rimasto eh si ma tu devi stare attento all'ultimo rimasto da solo quello adesso cercherà di cecchinarci curate 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 non te non sparare io sto con te so eh e mo pure io però ce n'abbiamo un altro che ci sa a tirare le granate e sa a far giro attenzione bravo sta lassù in alto e c'ha le granate attenzione eccolo vai si è quel polvastro lì che paura donna questa l'hai vinta tutto lo dico ok